Possiamo magari parlare un po' in italiano perché la stessa volta non abbiamo parlato insieme in italiano e ho bisogno di praticare, certamente. Anch'io, anch'io. E adesso ho trovato un gruppo di mita italiano, ma sarà difficile trovare tempo per andare, ma voglio perché è importantissimo praticare con la gente. Ma sì, è una bella lingua. Sì, è una bella lingua, anch'io non ho la possibilità di parlare, ma ho dei podcast della Rai 2 alle 8 della sera. Sono dei podcast sul soggetto molto interessante, sulla storia, molto interessante, ma ho dimenticato l'italiano. Ma non è importante, capisco, capisco quasi tutto, quando portare questi podcast, e sì, tendrì la possibilità di parlare, di parlare. Non necessario, non bisognerebbe molto tempo per poter parlare meglio. Ma come noi diciamo, no, ben che parlo con molte difficoltà adesso, no, voglio parlare, con problemi, con errori. Questo per me non è un problema, niente. Posso capire tutto. Capisco, parlo con errori, con difficoltà. Questo non è importante, perché sì, solo voglio parlare le lingue che parlo bene, no, dunque voglio limitare tutte queste possibilità. È vero. No, dunque voglio parlare, parlare tutti. È possibile migliorare se non parliamo, se non leggiamo e credo che leggiamo.